Babbo Natale ti aspetta, questa è la letterina, là ci sono gli elfi, ti ci mettono il timbro, vai da Babbo Natale, gli dici tutti i regali che vuoi, imbuchi la letterina e ti fai dare tante caramelle. A Rezzo si veste a festa, la festa più attesa dell'anno da grandi e piccini, il Natale, tante le iniziative tra Piazza Grande e la zona del Prato dove ci troviamo in questo momento. Partiamo, quarta edizione del villaggio tirolese in Piazza Grande, arrivano i mercatini di Natale, tantissima gente già da stamattina, quarta edizione ricchissima con un programma davvero molto grande, da appunto il villaggio tirolese, la casa di Babbo Natale in Piazza Grande e poi tutte le attrazioni al Prato con la ruota panoramica, il villaggio Lego, la pista del ghiaccio, davvero un menù ricchissimo per tutte le famiglie, i bambini e aspettiamo tantissimi visitatori da tutta Italia. Questa quarta edizione parte con un grandissimo investimento del Comune della Fondazione sul Prato, come seconda grande location che si è aperta tutti i giorni perché ruote e pista sono aperte tutti i giorni e come promesso nel 2019 anche il Natale nella parte bassa della città, rivedremo tutta la zona del mercato tradizionale, quello che poi è quello storico, quindi si spera al prossimo anno di creare tre grandi poli in modo che si possa fruire il Natale da in cima e in fondo alla città. Le prenotazioni, i tour operator sono tutte veramente molto positive, stamani già nelle nostre attività si respirava, devo dire, sinceramente un'area diversa. La formula di anticipare la magia del Natale al metà novembre è stata una formula vincente, l'abbiamo già sperimentato anno scorso e devo dire che i nostri imprenditori si sono dimostrati molto molto contenti, gli imprenditori, gli alberghi di tutto questo risultato.